Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, sì, signore! Ah, che cazzo non vi sento! Rispondete come se ne aveste davvero! Sì, sì, signore! Se voi signorine finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi in formi di materia organica, anfibia, comunemente detta merda! Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro però sono giusto! Qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglie come negri, ebrei, italiani o messicani! Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo a nessuno! I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beniamato corpo! Capito bene luridissimi vermi? Sì, sì, signore! Ma che cazzo non vi ho sentito? Sì, sì, signore! Come ti chiami, faccia di merda? Sì, 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 certo, signore! Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quell'urido stronzo comunista che è Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia!